Ti ricordi quelle noiose lezioni a scuola? Io sì, ma sai una cosa? Molte delle cose più importanti, soprattutto riguardo i soldi, non ce le hanno mai insegnate. Ricordo ancora la mia prima busta paga, quanto ero felice, no? Emozionato di dire, guarda, ho lavorato ed ecco qua cosa ho in mano. Ma ben presto ho capito che non era solo questione di guadagnare quei soldi, ma dovevi imparare anche a gestire quel denaro. Era un po' come trovarsi a guidare una Ferrari ma senza mai aver preso una lezione di guida, una cosa impossibile. E prima o poi tutti ci sbattiamo la testa, ci troviamo catapultati fuori da quel mondo fatto di sogni, di speranze, di obiettivi, di avventure, per ritrovarci ad inseguire un pezzo di carta, quel magico foglietto colorato che sembra oggi ormai governare le nostre vite. Il problema però è che nessuno ci ha mai insegnato ad utilizzare quel magico foglietto di carta. Nessuno ci ha mai dato veramente un manuale di istruzioni per il denaro. Ci hanno dato il prodotto, il denaro, e ci hanno detto utilizzatelo, ma senza spiegarci il come farlo. Ma perché nessuno ci ha mai spiegato le regole di questo gioco? Perché a scuola non ci hanno insegnato a giocare questo gioco? Ed è proprio in questo video che voglio svelarti qualche trucchetto, qualche piccolo segreto che non ci hanno insegnato a scuola, ma che devi assolutamente conoscere sul denaro. Quelli che sono i trucchi del mestiere che ho imparato negli anni, che ti permettono di usare in modo più intelligente quei foglietti di carta, e soprattutto utilizzarli a tuo vantaggio, anziché a loro vantaggio. Perché il non sapere usare il denaro gioca a vantaggio di chi ti dà il denaro. Saper utilizzare il denaro gioca a tuo vantaggio, ecco perché è fondamentale imparare a farlo, ed ecco perché, secondo me, complottismi a parte è uno dei motivi per cui non ti viene insegnato a scuola. Pronto allora? Mettiti comodo, spegni le notifiche, concentrati e iniziamo subito. Lezione numero 1. Il denaro è strettamente legato al valore, non al tempo. La scuola normalmente che cosa ti insegna? Ti insegna a svolgere il tuo compito per ottenere un voto. Questa cosa viene traslata sul denaro. Quindi tu vieni assunto come dipendente, lavorerai, e in base al tempo che lavori ottieni un tot di denaro in cambio. Quindi viene creata un'equazione in cui c'è da un lato il tempo che lavori, e dall'altro il denaro che guadagni. La realtà dei fatti è che però questa equazione non ha alcun senso, non esiste, è una cavolata. Puoi lavorare quanto ti pare, ma se ciò che fai è fondamentalmente inutile, non avrai denaro semplicemente. Perché il denaro non è collegato al tempo che tu dedichi al lavoro, ma è collegato al valore che produci. E questa è la prima cosa che dovrebbero insegnarti a scuola, ma che non ti viene insegnata. Ti viene insegnato che tu lavori e ottieni del denaro. Ma non è vero, perché altrimenti qualsiasi tipo di lavoro, io mi metto lì, faccio una cosa a caso, è un lavoro. Sto facendo un'azione e dovrei ricevere dei soldi, ma non li ricevo. Perché in realtà l'equazione tempo uguale denaro, il lavoro mi porta denaro, è un'equazione che non funziona o funziona parzialmente. L'equazione vera è valore uguale denaro. E prima impari questa legge, questa regola, prima riuscirai ad ottenere molto più denaro di quello che ottieni adesso. Hai mai scambiato le figurine da bambino? Che siano quelle dei calciatori, che siano i Pokémon, che sia i Yu-Gi-Oh! Che sia qualsiasi cosa, a seconda della fascia d'età in cui ti trovi, sicuramente ti sarà capitato di scambiare o delle figurine o delle biglie, ma qualcosa quando eri più giovane con i tuoi amici, con i tuoi compagni. È proprio in quei momenti che stavi già facendo affari. Stavi scambiando qualcosa che avevi, esempio figurine, in cambio di qualcos'altro. Di nuovo ho figurine oppure soldi. Il denaro funziona nello stesso identico modo. È un mezzo di scambio tramite cui io do qualcosa che ho per ottenere indietro qualcosa che desidero, che voglio. Quando io scambiavo una figurina per un'altra figurina, stavo effettivamente utilizzando la mia figurina come fosse denaro. Quando io vendo un prodotto, esempio la limonata, io sto utilizzando la limonata come prodotto per ottenere che cosa in cambio? Per ottenere del denaro. Ma in questo caso ciò che viene transato è il valore. Il denaro è proporzionale al valore che porti sul mercato. Ma ci torniamo tra pochissimo. Prima vediamo il denaro come considerarlo. Il denaro non è altro che energia. Né più né meno. Non è un pezzo di carta, è solo puramente energia. O, in modo più semplice, un linguaggio universale, comprensibile da tutti e che ci permetta di misurare che cosa? Il valore delle cose. Cioè se io devo scambiare una mela con una pera, trovo una persona che vuole la mela e gli do la mia mela e lui mi dà la pera. Perché io voglio la pera, lui vuole la mela e lo scambio è fatto. Non serve il denaro. Ma se io trovo una persona che vuole un'arancia e io ho la mela e lui ha la pera e io voglio una banana ma lui vuole un'arancia e nessuno dei due ha quello che vuole l'altro, le cose sono due. O non si commercia, oppure ci scambiamo un'unità di valore che poi andremo a nostra volta a scambiare ad un'altra persona che ha quello che interessa a noi. Ecco perché è nato il denaro. Ed è nato e va concepito proprio come energia, come un qualcosa che fluisce e ogni volta che fluisce genera valore. Cioè genera nuovi prodotti, genera nuovi asset, genera nuove cose. Perché nel momento in cui io prendo il denaro e te lo do a te in cambio di questa penna, tu mi dai questa penna, cioè hai prodotto questa penna a partire da questo scambio. Dopodiché tu che cosa farai con quel denaro? Vuoi comprare un paio di cuffiette. Allora cosa fai? Dai il denaro e viene prodotto da quello scambio un paio di cuffiette. Ogni volta che il denaro circola da mano in mano, produce del valore, produce un bene o produce un servizio per una delle due parti, quella che ovviamente paga in questo caso il denaro, dà il denaro. Quindi il denaro è energia e come la legge dell'energia che non si può creare, non si può distruggere, ma si può solo trasformare, funziona anche per il denaro. Tu non puoi fare soldi, smetti di pensare faccio soldi perché tu non sei la BCE, non sei la Fed, non sei assolutamente nulla di queste cose qui, quindi tu non crei energia, ma neanche loro creano energia, però ne parliamo in un altro video. Tu che cosa sei? Sei semplicemente una persona che è in grado di prendere questa energia. Quindi la trasformi, la elabori. Come? Utilizzando il valore che porti sul mercato. Se vuoi attrarre più denaro a te, devi semplicemente dare più valore. Che si tratti di un quadro, che si tratti di un'automobile, che si tratti di un aereo, che si tratti della spesa al mercato, che si tratti di un detersivo, che si tratti di qualsiasi cosa, il denaro è lo strumento che utilizziamo per quantificare il valore di qualcosa. E il valore è strettamente correlato all'utilità che ne possiamo trarre. Quindi abbiamo visto l'equazione denaro uguale valore uguale utilità. Ed è proprio qui, su questa parte, su questo aspetto, che dobbiamo concentrarci. Infatti il valore è la combinazione di tre aspetti. L'utilità, quindi quanto è utile un prodotto o un servizio. La rarità, se vogliamo, quindi quanto è difficile da trovare quel determinato prodotto o quanto è difficile da produrre. E poi la desiderabilità, quindi quanto le persone desiderano quel determinato oggetto, prodotto, servizio, qualsiasi cosa essa sia. Queste tre caratteristiche sono ciò che creano il valore e dal valore vengono trasferite poi al denaro. Quindi tu devi focalizzare a portare valore, sì. Se vuoi più soldi devi portare più valore, ma per portare più valore devi concentrarti sugli elementi che compongono quel valore. Quindi di nuovo utilità, rarità e desiderabilità. Già solo l'utilità in sé ti permette di fare il prezzo. Se tu vai nella tua città a vendere una bottiglietta d'acqua da un litro, cosa la venderai? Un euro? Se sei in un bar, se vai al supermercato, la trovi magari a 50 centesimi, 40 centesimi, 30 centesimi? A niente. Ma se tu prendi quella stessa bottiglietta d'acqua e la vai a vendere in un deserto, chi te la compra è disposto a comprarla a un prezzo maggiore. Perché? Perché di nuovo è una questione di valore intrinseco dell'oggetto, ma anche di valore percepito. Quindi l'utilità è strettamente collegato, il valore percepito all'utilità. Cosa significa? Significa che se quell'oggetto è tanto desiderabile, perché si trova in un contesto dove è raro, dove è scarso, dove è tanto desiderabile, quindi è molto anche utile, allora quell'oggetto ha un prezzo, ha un valore enorme. E a valore enorme corrisponde un pagamento in denaro enorme. Questo è fondamentale e questa è la prima legge in assoluto che bisognerebbe conoscere e su cui bisognerebbe concentrarsi per comprendere il funzionamento del denaro e farlo funzionare a nostro vantaggio. Perché finché io rimango bloccato nella concezione guadagno perché ho dato il mio tempo per ottenere quel denaro lì, questa roba qui ti porta solo a rimanere fermo tutta la vita nella tua ruota del criceto a correre, 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 pagando tempo, che è la moneta più importante che hai, in cambio di denaro. In realtà sul lavoro vuoi un aumento? Ok, porta più valore nel tuo lavoro. Cerca soluzioni per portare più valore nel tuo lavoro. Il tuo datore di lavoro se vede che tu rendi di più è disposto a pagarti di più pur di non farti andare via. Se sei un libro professionista, hai un'azienda o qualsiasi cosa, di nuovo concentrati sul valore che porti sul mercato. Porta valore, più valore porti. Più il tuo servizio o prodotto che sia è utile e ha un valore percepito alto, più soldi otterrai. Molto semplice. Quindi scollega quella vecchia equazione e ricollega la nuova equazione con valore uguale denaro. Ora, che cosa puoi fare nella pratica? Rifletti. Quindi rifletti su qual è il tuo più grande valore, quindi che cosa ti rende unico, che cosa può essere utile alle altre persone, che sia un datore di lavoro, che siano i tuoi clienti, qualsiasi cosa, e lavora su quello. Focalizzati sull'incrementare quell'utilità. Trovare quel valore se ancora non lo conosci o se lo conosci potenziarlo. Poi impara. Sviluppati personalmente, professionalmente. Questo è fondamentale se vuoi crescere. Più cresci tu, maggiore sarà il valore che porterai sul mercato e di conseguenza più soldi otterrai come ricompensa. E poi ricordati molto molto bene che il denaro non è un fine. Cioè il mio obiettivo non è il denaro. Il denaro è uno strumento. Chi ci vende il denaro e non ci insegna ad utilizzarlo, ce lo vende come obiettivo finale. Tu devi guadagnare, punto. Devi fare tanti soldi. Ma questo qua è il fine. Ma non è così. Il denaro non è il fine. Il denaro è il tassello in mezzo che ti porta da ciò che sei a ciò che vuoi essere o ti porta ad ottenere ciò che vuoi. Quindi il denaro è uno strumento, è un mezzo semplicissimo per misurare il valore. Lezione numero due. Sviluppa il tuo punto di vista personale sulla finanza. Immagina un po' la tua vita finanziaria come un lungo viaggio. Ogni decisione che prendi è un passo avanti o indietro lungo questo percorso. Per raggiungere la tua destinazione finanziaria hai bisogno però di una mappa, di una bussola, di qualcosa che ti guidi appunto lungo questo percorso. Bene, la mappa è il tuo piano finanziario. Mentre la bussola è il tuo punto di vista personale sulla finanza. E tra poco ti spiego bene che cosa voglio dire. Prima però voglio farti comprendere perché il tuo punto di vista riguardo la finanza è davvero così importante, così fondamentale. È fondamentale perché ognuno di noi ha un proprio approccio personale col denaro. Alcuni di noi sono per indole dei risparmiatori nati, altri invece sono un po' degli spendaccioni magari, altri ancora magari hanno una maggiore propensione al rischio e quindi per investire, altri invece meno. Quindi a seconda di come siamo configurati noi, di qual è il nostro approccio personale col denaro, potremmo voler scegliere delle vie piuttosto che altre. E diventa importante in questa fase trovare la nostra personale via, trovare le nostre personali opinioni, piuttosto che copiare quelle degli altri. Perché se tu senti me che parlo di investimenti dove magari ho una propensione al rischio diversa rispetto alla tua, o una propensione al risparmio diverso rispetto che il tuo, o un portafoglio diverso rispetto che il tuo, una gestione del denaro, o un flusso di cassa diverso rispetto che il tuo, allora capisci che la mia strategia è basata su quello che ho io, su quello che faccio io, su chi sono io, no? E cucita come un abito sartoriale su di me. Non vuol dire che vada bene per te. Quindi sì, va bene ascoltare, va bene prendere spunto, ma poi ognuno dovrebbe disegnarsi la propria opinione personale sulla finanza e sulle finanze. Il tuo punto di vista, infatti, finanziario, è influenzato da diverse cose. In primis, la tua educazione finanziaria, quindi quello che sai che conosci della finanza, ma anche solo della gestione del denaro. Due, le tue esperienze passate, se sei stato scottato, per esempio, nel mondo degli investimenti, oppure i soldi si sono bruciati in banca fermi per l'inflazione. I tuoi valori, i tuoi obiettivi. Questi sono aspetti fondamentali a tenere in considerazione quando si va a leggere quello che è il mondo finanziario. Ecco perché dico che è un po' come una bussola. Perché in realtà tu hai da una parte una mappa per affrontare questo tuo percorso e quella mappa è la tua strategia, è il tuo piano, che vedremo tra poco. Dall'altra parte è una bussola, per sapere direzionarti, no? Io non so dove, qui mi dice devo andare al nord, ma io non so dove è il nord, mi serve la bussola. Quella bussola è la tua personale opinione, la tua personale chiave di lettura di quella mappa. e quindi della finanza. E quello che voglio sottolineare, l'ho già detto ma voglio risottolinearlo, è che non devi semplicemente copiare quello che fanno gli altri. Non devi copiare ciò che faccio io, ciò su cui investo, non devi ascoltare 3.000 notizie finanziarie prima di prendere una decisione, di decidere se comprare o vendere un asset. No! Non devi fare questo. No! God! Devi creare la tua personale opinione e ti avviso che non è facile perché ascoltare un video e agire di conseguenza è molto più semplice, no? E quella è la strada che la maggior parte di persone prende perché è la strada più semplice per chi richiede semplicemente ascoltare e guardare. Io guardo, cosa fai? Ascolto, lo faccio. Sì, ma nel percorso devi crearti la tua personalissima opinione. e questo è maledettamente difficile da fare perché mentre nel primo caso ti bastano un computer, una connessione internet, un paio d'occhi o almeno di orecchie, dall'altra parte ti serve il massimo del tuo focus perché per imparare a costruire un'opinione personale sulla finanza significa conoscere la finanza. Quindi significa studiare, significa provare, significa comprendere tanti, tanti, tanti aspetti complessi, diversi l'uno dall'altro ma che sono quelli che sul lungo termine ti portano i risultati. Quindi va bene ascoltare, va bene guardare, sì, ma solo se abbinato ad uno studio costante e ad un apprendimento costante. La tua personale opinione conta mille volte più della mia o di qualsiasi altra persona nel mondo. Quindi per imparare a costruire la tua bussola, la tua opinione personale devi leggere libri, articoli, ascoltare anche video come questo, ascoltare le mie video analisi, ascoltare e imparare magari da come ci si muove, da come mi muovo, che non vuol dire che si debba fare la stessa cosa ma semplicemente apprendere nozioni, seguire magari dei corsi online, possibilmente non di Fuffa Guru. Qui sul canale hai tutti i corsi che vuoi, qui sul canale hai veramente un sacco di contenuti gratuiti, anzi se ancora non ti sei iscritto clicca questo pulsantino qua e iscriviti al canale così rimani aggiornato, hai tutto tutto quello che ti serve sulla finanza gratis qua su YouTube e poi sporcarti le mani come si dice, quindi agire, metterti lì con poco capitale all'inizio e fare le tue teste, le tue analisi, le tue cose. Più conosci le basi della finanza, più consapevoli saranno le tue decisioni e di conseguenza più centrata sarà la tua bussola più precisa. Lezione numero 3. Il budget e libertà. Tante volte quando parlo di budget le persone mi guardano con gli occhi così e dicono eh no ma io non voglio farmi lì tutta una lista di quello che c'è da fare, quello che non c'è da fare, questa roba qui, mi fa sentire stretto, un po' imprigionato. Ma in realtà avere un budget preciso non è una prigione, anzi è proprio la tua mappa verso la libertà finanziaria. La mappa di cui parlavamo prima, cioè il tuo piano, il tuo piano per raggiungere un obiettivo passa dal budget. Ancora una volta, immagina di voler fare questo lungo viaggio. Immagina di fare questo lungo viaggio senza conoscere la destinazione. Quanto sarebbe facile perdersi? Inutile chiederlo no? È sicuro quasi al 100% io non so dove sto andando, mi perdo appunto. Il budget è proprio quella mappa che ti indica il traguardo da raggiungere, quindi dove stai andando, ma ti indica anche i tuoi obiettivi lungo il percorso. Ed è grazie al budget, grazie ad un'attenta strategia che tu puoi ottenere la libertà finanziaria. Molto molto più velocemente rispetto che girare a caso, andare a tentoni, butto un po' di qua, faccio un po' di là. No, grazie al budget, anziché essere vista da molti come una prigione, è in realtà quello che ti stacca da le spese, da tutta una serie di cose che vedremo tra poco, e ti permette di raggiungere degli obiettivi grandi. Perché dunque un budget ti dovrebbe offrire la libertà? Uno, il budget ti offre consapevolezza. Infatti ti aiuta a capire dove stanno andando i tuoi soldi. Tu prenditi ora questo mese, o ti scarichi un'app, o ti prendi un foglio Excel, qualsiasi cosa, e tieni traccia di tutte le tue entrate e di tutte le tue uscite. In questo modo puoi scoprire visivamente, effettivamente, dove stanno andando i tuoi soldi, da dove entrano e dove escono, quanti ne entrano, quanti ne escono, e soprattutto quanti di questi se ne vanno in spese totalmente inutili. Questo ti dà consapevolezza, e ragazzi, la consapevolezza e potere. Una volta che tu hai capito, sei quindi consapevole di dove stanno andando i tuoi soldi, allora che cosa puoi fare? Puoi spegnere, eliminare le voci inutili che ti mangiano soldi, e quindi avere più budget disponibile per te da utilizzare per cose che realmente contano. E non stare lì a dire adesso, eh ma no, io non spendo niente di inutile. No, fai questo lavoro e ti dico al 99.99% che troverai delle spese inutili. Che siano l'Amazon Prime che è attivo, che tanto compri una volta all'anno e non ti serve assolutamente a nulla averlo. Che sia il Netflix della situazione, che siano tutta una serie di fattori. Sicuramente, sicuramente qualcosa che stai avendo lì come spesa e che è una spesa non necessaria, ce l'hai. Tira via e passa allo step successivo. Controllo. avere un budget ti permette di essere in controllo invece di essere trascinato da spese impulsive. Perché io so esattamente quanto devo dedicare al mangiare, quanto devo dedicare alla casa, quanto devo dedicare a spese extra e quanto devo dedicare agli investimenti per esempio. Una volta che ho un'idea chiara di quanto dedicare dove, si tratta solo di automatizzare questo flusso, mi entrano i soldi, io vado a mettere questo qui, questo qui, questo qui, questo qui. ti permette di evitare di uscire fuori da questo percorso e quindi uscire fuori budget. Quindi rischiare di spendere più magari di quello che ti è entrato o ritrovarti a spendere incavolate. Tu hai tutto chiaro, tutto stabilito e tra l'altro ho fatto un video molto molto interessante, molto importante, te lo lascio linkato qui e poi comunque la trovi anche qua sotto nella descrizione del video dove ho parlato molto attentamente di questa fase perché veramente è estremamente importante se vuoi diventare ricco devi passare attraverso questi percorsi che la maggior parte di persone là fuori non fa la maggior parte di persone là fuori non fa queste cose ed è il motivo per cui si trovano nella situazione in cui sono. Quindi se tu vuoi essere diverso devi agire in modo diverso poi abbiamo gli obiettivi un budget ti aiuta a visualizzare i tuoi obiettivi finanziari che siano a breve che siano a medio che siano a lungo termine come può essere andare in pensione anticipatamente come può essere un viaggio come può essere qualsiasi cosa sono degli obiettivi più o meno utili ma comunque degli obiettivi ora averli scritti avere un'idea di quanto sto mettendo per quell'obiettivo quanto sto investendo in quell'ambito mi permette chiaramente di avere un controllo chiaro sui miei obiettivi e infine la serenità lo so è contro è contro intuitivo il fatto che io penso al budget un po' come la dieta un qualcosa di restrittivo che mi dice no tu non puoi spendere qui non puoi spendere lì in realtà poi ti crea una serenità mentale senza precedenti cioè esattamente l'opposto perché tu sai che hai un piano finanziario sai che hai un piano finanziario in atto sai che quel piano finanziario ti porterà nel tempo verso i tuoi obiettivi e quindi dormi sono i tranquilli perché come viaggiare con una mappa tu sai dove stai andando non te ne frega niente del resto io so dove sto andando e quindi sono tranquillo lungo il viaggio se io non ho idea di dove sto andando avrò costantemente la paura se non trovo una pompa per far benzina rimango senza benzina e se rimango senza cibo e acqua dove mi trovo rimarrai sempre in questo stato di ansia di preoccupazione legato al denaro ma avendo una tua mappa avendo un'idea precisa sei tranquillo come creare a questo punto un budget efficace è semplicissimo ti basta definire i tuoi obiettivi quindi che cosa vuoi raggiungere con il denaro 2 tenere traccia di tutte le tue spese prenditi almeno per un mese una di quelle app gratuite che trovi sugli app store play store con qualsiasi store tu voglia oppure un semplice foglio di calcolo o alla vecchia scritto su un foglio a mano tieni traccia di tutte le spese che stai facendo e poi alla fine del mese vai a depennare quelle che secondo te sono meno interessanti e soprattutto non utili le vai a togliere e inizi dal mese successivo in poi a vivere senza quelle spese lì nel tempo creerai della liquidità che potrai poi riutilizzare che vedremo tra pochissimo ancora meglio crea delle categorie quindi cerca di organizzare le tue spese all'interno di categorie come può essere la casa come può essere il cibo come possono essere i trasporti in questo modo tu hai un'idea chiara di quanto stai spendendo in ognuna di queste categorie avere questa idea chiara di quanto stai spendendo in ognuna di queste categorie ti permette di mettere mano di capire no io dovrei alzare un po' più la percentuale di questo e ridurre quella e quindi muoverti in modo molto più intelligente molto più comodo e infine rivedi adatta controlla regolarmente il tuo budget e apporta tutte le varie modifiche necessarie ovviamente quindi è un qualcosa è un percorso che inizi e che porti avanti lungo il percorso della tua vita quindi le tue finanze andranno di pari passo con quella che è la tua vita nel suo modo di migliorare o peggiorare se andrà comunque a toccare poi il budget in un modo piuttosto che in un altro lezione numero 4 dai la precedenza dai priorità agli attivi piuttosto che ai passivi spesso infatti confondiamo ciò che abbiamo con quanto siamo ricchi e ho fatto un video riguardo anche su questo che ti lascio di nuovo qua sopra siamo abituati a pensare che ciò che abbiamo è ciò che ci rende ricchi io sono ricco perché ho la Ferrari io sono ricco perché ho l'orologio di lusso io sono ricco perché ho la villa al mare robe di questo tipo un'auto nuova un abito all'ultima moda una vacanza esotica una casa di lusso tutta questa roba qui può farci sentir bene nel breve termine sì assolutamente sì ma nel lungo termine effettivamente non contribuiscono a costruire il nostro futuro questo è fondamentale e soprattutto non contribuiscono a costruire un futuro finanziario solido anzi questo tipo di spese cioè le passività anziché generare reddito nel tempo o comunque aumentare di valore tendenzialmente cosa faranno ci porteranno via soldi perché avere un'auto nuova bellissima fantastica significa bollo assicurazione magari ha aumentato la cilindrata quindi devi pagare di più magari consuma di più e tutta una serie di cose il televisore ti consuma corrente qualsiasi roba qualsiasi roba che è un bene non necessario a vivere diventa che cosa diventa uno strumento di passività quindi un qualcosa che io acquisto ma che in realtà mi priva di valore nel tempo l'attività invece che cos'è è un bene che mi genera reddito o aumenta di valore nel tempo o ancora meglio entrambi esempi di attività quali possono essere le azioni gli immobili che mettiamo in affitto le imprese quindi delle aziende delle royalties dei terreni l'oro l'argento bitcoin quindi tutta una serie di cose che o si apprezzano di valore nel tempo oppure che ci producono dividendi ci producono delle royalties ci producono dei ritorni e quindi un ingresso dal punto di vista del nostro reddito un aumento del nostro reddito le passività invece cosa sono abbiamo detto sono dei debiti che generalmente comportano solo costi quindi di nuovo mutui prestiti carte di credito affitti che però nel caso dell'affitto magari è necessario quindi non si può fare niente automobili televisore di nuovo piuttosto che l'ultimo modello di iphone quando posso prendere un telefono normale tutta questa roba qui tutta questa roba qui sono semplicemente delle passività della roba che noi spendiamo per comprare ma che obiettivamente non ci portano chissà quale valore incredibile indietro e perché quindi è importante più che spendere sui passivi concentrarsi sugli attivi la risposta direi che è ovvia le attività ci generano del reddito e quindi maggiori entrate anche quando non stai lavorando e questo è molto importante perché sono dunque slegate dal tuo tempo d'altra parte generalmente questo tipo di asset cresce di valore nel tempo aumentando quello che è il tuo patrimonio netto quindi altra cosa importante da tenere in considerazione e ti possono proteggere dal futuro perché? perché un portafoglio diversificato un portafoglio pieno di attività è un portafoglio che è in grado di proteggerti nel lungo termine dallo svalutamento del denaro e quindi dalle inflazioni dalle crisi economiche e così via perché se tu compri un appartamento o compri una casa tendenzialmente poi è vero dipende dalla zona dipende da tanti fattori però tendenzialmente lo metti in affitto e ti genera degli interessi però domani magari tra vent'anni che ne so vuoi vendere quell'appartamento potenzialmente il suo valore è aumentato non è che è aumentato il valore è che si è svalutato il denaro quindi ti servono più soldi per comprare però tu hai mantenuto il tuo potere d'acquisto se non altro se tu compri oggi un'automobile normale non ti dico le auto di lusso particolari da collezione perché servono milioni e un'altra roba io ti sto dicendo semplicemente l'auto normale vai ti compri il tuo mercedes classico la tua audi classica normale 60.000 euro 70.000 euro quello che è quello che costa tu la compri il giorno che la ritiri quell'auto vale la metà se la vendessi punto quindi si è svalutato nel tempo hai investito soldi e in più un costo quindi bisogna valutare estremamente attentamente dove vanno i nostri fondi arriviamo adesso alla nostra lezione numero 5 la tua carriera la tua carriera è l'investimento più importante in assoluto prima ancora di investire sui mercati investi su te stesso perché la tua carriera non è solo un modo per guadagnarsi da vivere le scelte che tu farai riguardo la tua carriera impatteranno in modo significativo la tua vita finanziaria e di conseguenza la tua felicità nel lungo termine infatti la tua carriera è la fonte principale di reddito che hai attualmente ed è cioè il flusso il primo flusso che ti arriva di denaro quel flusso che poi tu vai a dividere su investimenti su altre cose per creare altri affluenti altri flussi ma inizialmente la tua carriera è ciò che rende veramente tanto che ti porta tanto flusso di cassa e come fonte principale del tuo reddito è importantissimo focalizzarsi in questo aspetto prima di andare a toccare investimenti e tutto il resto un lavoro stimolante un lavoro appagante un lavoro che cresce nel tempo ti permette di crescere sia professionalmente che personalmente oltre che conoscere tante persone stringere collaborazioni e quindi espanderti a nuove possibilità mi raccomando non sottovalutare mai questo aspetto perché se tu sei su questo canale ovviamente ti aspetti di parlare di investimenti che è quello di cui parliamo ma investire sulla tua carriera sulla tua attività sia che tu sia un dipendente sia che tu non sia un dipendente sia un libero professionista o qualsiasi altra configurazione dove hai il tuo business è fondamentale in entrambi questi scenari focalizzarsi sulla propria carriera e cercare il più possibile di innovare di crescere e vendere i propri servizi a maggior prezzo perché più cresciamo noi più diventiamo indispensabili quindi più siamo in grado di creare valore ricordi la lezione 1 su maggiori entrate potremmo fare affidamento quindi concentrati assolutamente su questa parte perché è veramente importantissima prima di vedere dove investire e diventare ricchi con gli investimenti concentrati su quanti soldi ti stanno entrando tutti i grandi ricchi là fuori non a caso prendi Forbes prendi Forbes e guarda i 100 uomini più ricchi del mondo sono tutti imprenditori sono tutti imprenditori sono persone che portano valore là fuori nel mercato tu devi essere quel tipo di persona che porta valore di conseguenza concentrati prima di investire sulle azioni o su qualsiasi altra cosa investi su te stesso investi sulla tua azienda investi per far crescere la tua realtà investi in pubblicità investi se sei un dipendente aumentare migliorare le tue skill in modo da poterle vendere ad un prezzo maggiore ottenere magari un aumento di stipendio o trovare un posto dove ti trovi meglio dove puoi lavorare di più ma ti servono quelle abilità specifiche che ancora non hai ma che puoi acquisire investi su questa roba qui poi ci sarà tempo per investire su tutto il resto e arriviamo infatti alla lezione numero 6 il potere degli investimenti investire è un po' come piantare un seme con il passare del tempo e con la cura che diamo a quel seme lui cresce si trasforma in un albero e ci produce frutti allo stesso modo i tuoi soldi nel momento in cui vengono investiti sempre con cura e con intelligenza possono produrre possono generare dei rendimenti nel tempo esattamente come i frutti di quell'albero perché è così importante investire? è presto detto investire tendenzialmente batte l'inflazione quindi il tuo denaro si svaluta ma se investi e se investi in modo oculato intelligente riesci a battere molto probabilmente l'inflazione e quindi riesci a evitare che ti si bruci in tasca il denaro i tuoi soldi si svalutano punto la moneta si svaluta inflazione che tu lo voglia o no i tuoi soldi si svalutano altra cosa che non ti insegnano a scuola ti insegnano a mettere da parte il denaro ma quel denaro si svaluta e finché si svalute tu non fai nulla per arginare quel problema puoi riempire i secchi d'acqua quanto vuoi ma se sono bucati tu non farai assolutamente nulla devi imparare a tappare quei buchi e allora sì che straborderanno altra cosa che ovviamente a scuola nessuno ti dice nessuno ti insegna molti investimenti là fuori generano redditi passivi sotto forma di dividendi sotto forma di interessi e di conseguenza da un lato combattono magari l'inflazione crescendo di prezzo nel tempo ma dall'altro ti producono anche dei rendimenti dei dividendi quindi delle entrate maggiori per te inoltre ti possono aiutare a lungo termine a costruire un patrimonio significativo proprio perché tendono magari ad apprezzarsi nel tempo ora domanda più che lecita da dove iniziare con gli investimenti questo canale parla ampiamente di investimenti ti basta un po' scorrere qua tra i video e vedrai tantissime 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 idee strategie ci trovi veramente di tutto di tutto e di più ma ciò che ti consiglio principalmente di fare prima ancora di guardare dove investo io dove si può investire è studiare quindi investi ancora una volta su di te e studia 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 una volta che hai studiato e ti sei costruito la tua personale opinione sulla finanza sugli investimenti allora inizia a decidere inizia a guardare inizia a muoverti educa te stesso impara i concetti base dell'investimento come funzionano perché funzionano quando non funzionano e tutto ciò che serve definisci quindi i tuoi obiettivi chiediti che cosa vuoi raggiungere con gli investimenti e a quel punto quando tutto è definito quando la tua strategia è pronta inizia in piccolo quindi inizia a testare con pochi soldi il mondo degli investimenti via via man mano che diventi più bravo ti impratichisci aumenti le quantità di denaro ok è stato un video relativamente lungo però era molto molto importante andare a sottolineare determinati concetti per riassumere il denaro è un qualcosa che ti insegnano in modo sbagliato che lo si ottiene lavorando e lo si utilizza per pagare bollette tasse comprarti la casa e tutte queste robe qui in realtà questa è una spiegazione estremamente riduttiva il denaro è uno strumento attraverso cui tu puoi creare cose in primis il valore a cui è strettamente correlato poi ricordati uno strumento non il fine non devi lavorare per ricevere denaro e stop fine obiettivo raggiunto o i soldi sono contento no devi piuttosto usare il denaro per raggiungere ciò che desideri veramente accantonare soldi per lasciarli solo svalutare non serve assolutamente a nulla è la mossa più stupida che tu possa fare ed è quella che loro vogliono che tu faccia usarlo invece per creare entrate extra quindi andare a creare valore il nuovo reddito investendo in attivi è invece la mossa più saggia che tu possa fare che significa sbagliare significa imparare significa tante cose però è comunque la scelta più saggia sul lungo termine quindi una volta che hai compreso che il denaro lo ricevi in base al valore che porti sul mercato chiediti prima di tutto che cosa io posso offrire al mondo una volta che tu sei consapevole di ciò che puoi offrire al mondo inizi a studiare e a tracciare il tuo percorso finanziario studia impara piuttosto che stare lì ad ascoltare quello che dicono gli altri analizza le tue uscite le tue entrate quindi creati lato mappa creati il tuo budget e poi rimani fisso fermo sul tuo percorso e vai via 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 tagliando spese superflue a crearti un piano d'azione vero e proprio infine investi e fai in modo che i soldi che tu hai investito generino nuove entrate per te contemporaneamente investi massicciamente su te stesso per aumentare il tuo flusso di cassa iniziale quindi il tuo reddito che sia dipendente o non dipendente devi lavorare lì per aumentarlo più cresce più disponibilità economica avrai mantenendo lo stesso livello di vita per avere più soldi da investire e di conseguenza generare maggiori entrate questo è questo è quello che a scuola non ti insegnano questo è quello che a scuola non vogliono che tu conosca perché conoscere perché conoscere le regole del gioco del denaro ti porta inevitabilmente a smettere di essere succube e diventare padrone in questo gioco fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti ti ricordo cliccando il bottoncino qua ti potrai iscrivere al mio canale ottenere tanti aggiornamenti tante notizie tante tanti tutorial tante informazioni esattamente come quello che appena visto in questo video ti ringrazio per se è stato qui con me un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video